Buonasera, sono Nicola Rimondi, socio associato di diverse righe studio, assieme ai miei soci Simone Gheduzzi e Gabriele Sorichetti. Siamo qua oggi perché abbiamo presentato l'edificio, il progetto dell'Opificio Golinelli a Bologna, una trasformazione urbana di un comparto industriale per ospitare la nuova sede della fondazione che si occuperà e si sta già occupando di cultura, formazione nel campo dell'arte e della scienza per i giovani ragazzi under 18. Penso che la nostra ricerca come studio di progettazione si sta occupando in questi ultimi anni, in particolare della rigenerazione urbana, come tema fondante dei nostri approfondimenti. Riteniamo molto importante il tipo di approccio a questo tema, come un approccio multidisciplinare che deve affrontare la moltitudine, intesa come una moltitudine di temi e variabili da considerare nel progetto che dovranno toccare un po' tutti i temi che collegano il progetto con l'habitat all'interno del quale si va sempre ad inserire, come habitat inteso naturalmente come relazioni sociali, psicologiche, fisiche, di interazioni di sostenibilità ed ambientali.